Grazie a tutti. La cerimonia di pregazione degli anziani, dei senior e senior di gruppo, che il 22 marzo si è svolta nel salone della Edison. Tra l'altro a questo evento, esperienza di settembre, ha dedicato due parti, quindi ha dato una grande visibilità. Alla cerimonia ha presenziato il neo-amministratore delegato dell'Edison, Monsier Marche, che personalmente ha voluto premiare e distribuire i premi ai nostri 132 premianti e ai 5 neo-maestri del lavoro. Questo ci ha fatto molto piacere ed è stata per noi l'occasione per farvi conoscere il nostro gruppo, i suoi valori e la tradizione aziendale che noi rappresentiamo. Monsier Benayun, nel riloggere il saluto nel corso della premiazione, ha confermato l'impegno della Edison a sostenere il GES e le sue iniziative. Questo per noi rappresenta un ulteriore stimolo per farvi più e meglio. Se voglio accusare il microfono in mano, voglio solo dirvi che nel corso del pranzo l'amico Ettore Piacci vi illustrerà alcune delle principali iniziative e quindi intendiamo programmare nei primi mesi del 2016. Grazie. 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 Grazie.